Allora, Progress arriva alla terza edizione, il grande rapporto con la nostra azienda dei trasporti si consolida e si rilancia anche nella formazione. C'è una grande collaborazione tra l'assessorato alla formazione professionale e tua, in particolare abbiamo avviato 80 corsisti di ragazzi che avranno delle professionalità nel mondo delle ferrovie, persone ultra specializzate, unico brand, unica tipologia in Italia dove il pubblico anticipa il privato nella formazione di figure altamente professionalizzate in un settore che è affamato di competenze. Ho ricordato la lungimiranza dell'allora presidente di Tua, il dottor De Angelis, che è anche l'attuale presidente di Tua, che ci ha richiesto questo intervento e la nostra è stata solo il buon senso di ascoltare chi viveva un'esigenza e da un emendamento approvato con velocità è nata un'offerta di lavoro e di formazione molto richiesta, molto concreta, che credo abbia già generato oltre 70 occasioni lavorative concretizzate, non si sa quante altre in Italia, dopo aver finito il corso di formazione. Questo che vuol dire? Che bisogna orientare le risorse che abbiamo per le necessità che effettivamente ci sono, dopodiché una corretta formazione crea un lavoro stabile, sicuro e ben retribuito, quindi dobbiamo molto ascoltare e poi velocemente fare.